Il mio viaggio inizia alla scoperta del Vallese, un territorio magnifico e una regione vitivinicola davvero importante nella Svizzera. Andiamo a visitare l'Essiglie de Sion, che è un vero e turistico dove siamo guidati in un vero e proprio percorso sensoriale. Ma il vero percorso inizia con una e-bike, attraversando proprio i vigneti terrazzati, dove la gran parte delle operazioni sono per forza manuali. L'Itinerario prosegue la scoperta dei vigneti di Visper Terminen, un vero e proprio trekking nei vigneti tra i più alti d'Europa, più di 1.400 metri. Si prosegue inoltre con la degustazione di vini, che sono il risultato di un duro sacrificio e lavoro all'interno di questi vigneti. Passeggiando nel piccolo paesino di Visper Terminen si percepisce come ancora le tradizioni, gli usi e i costumi siano ancora rimasti intatti. Abbiamo visitato un caseificio nel quale viene prodotto la raclette. Abbiamo visitato i luoghi di produzione, di affinamento. Non mi resta che godermi gli ultimi istanti di questo viaggio, ma a voi vi invito a seguirci su questo ed altri itinerari su svizzera.it.